ben trovati da andrea lazzara con le previsioni del tempo di arpal oggi mercoledì una giornata con tempo stabile domani giovedì un po di instabilità e nuovo aumento parziale della nuvolosità per la giornata di venerdì 7 ma ecco il dettaglio oggi mercoledì 5 giugno sereno poco nuvoloso per locali addensamenti 20 inizialmente in regime di brezza in seguito in circolazione ciclonica in aumento fino a moderati da sud est con locali rinforzi sulle zone esposte mare poco mosso in aumento fino a mosso in serata temperature massime stazionarie lungo la costa tra 21 e 24 gradi nelle zone interne tra 22 e 26 gradi domani giovedì 6 giugno aumento della nuvolosità nei bassi strati con possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale possibili isolati fenomeni moderati progressivo esaurimento delle precipitazioni nel corso del pomeriggio con aumento delle schiarite 20 in generale rotazione dai quadranti meridionali moderati da sud ovest a ponente moderati con locali rinforzi fino a 50 60 chilometri orari elevante in calo in serata mare mosso localmente molto mosso nelle prime ore sulla parte centrale della regione temperature minime stazionarie lungo la costa tra 15 e 19 gradi nell'interno tra 10 e 15 gradi massime in diminuzione lungo la costa tra 19 e 21 gradi nelle zone interne tra 17 e 19 gradi dopodomani venerdì 7 giugno rapida diminuzione della nuvolosità con cielo poco nuvoloso al mattino nel pomeriggio nuovo temporaneo aumento della copertura nuvolosa con possibili deboli precipitazioni sparse venti moderati in rotazione da nord est a ponente con locali rinforzi da sud est a levante in generale calo nel pomeriggio rotazione da est a levante mare poco mosso o mosso temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 15 e 18 gradi nell'interno tra 8 e 16 gradi massime in aumento lungo la costa tra 21 e 24 gradi nelle zone interne tra 19 e 23 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di arpal a risentirci